Ciao ragazzi, qualcuno forse di voi avrà già visto, avrà già intuito l'annuncio che sto per fare in questo video perché sabato ho pubblicato il nome del primo contributor ufficiale del mio libro Incubate the Future 9 più 1 motivi per cui l'innovazione early stage salverà il mondo l'innovazione early stage è quella che io preferisco, quella che viene dal basso, che parte da molto piccola quella degli incubatori, degli acceleratori, degli hackathon e quella che gli americani chiamerebbero dei seeds quindi dei primi grani, dei primi semi che vengono piantati nel terreno per dare vita a qualcosa di meraviglioso io credo fortemente che questo tipo di innovazione che parte molto dal basso e può fare rete per crescere sia davvero la soluzione per avere un pochino più di futuro davanti a noi in molti sensi e mi farà piacere condividere con voi ogni sabato un nome ufficiale di contributor per il mio libro persone che hanno avuto esperienza di incubatori, di startup, lavorano magari in aziende che investono moltissimo in questo tipo di innovazione e addirittura farò entro le prossime settimane, i prossimi mesi comincerò a fare delle rubriche video con un key insight per ognuno di loro per presentarvelo al meglio se vi interessa scrivetemi uno yes nei commenti per preordinarlo e ne riparleremo molto presto stop whining sempre